Messina vive sempre in emergenza, se quella idrica sta per terminare quella dei rifiuti non sembra finire mai. Adesso anche la procura vuole vederci chiaro sui motivi che ancora oggi vedono molti cassonetti strapieni di rifiuti e strade utilizzate come discariche a cielo aperto. L'indagine del procuratore Vincenzo Barbaro è in una prima fase, sono stati ascoltati amministratori di comune messi in ambiente e si sta concentrando sulle condizioni igienico-sanitarie che da settimane rendono gran parte di Messina un immenso immondezzaio. La Regione ha sì consentito che il capoluogo smaltisca tutto l'arretrato di una settimana, circa 500 tonnellate sparse tra cassonetti e strade. Per tornare alla normalità la Messina Ambiente ha dichiarato che servono una decina di giorni per rivedere tutte le zone pulite ma questi giorni non finiscono più. Il problema è sempre quello che Messina non può scaricare a Motta Santa Anastasia più di 261 tonnellate quotidiane e dunque all'arretrato che viene scaricato a Motta si aggiunge quello che giornalmente non può essere smaltito ma che resta tra le nostre vie. Basta poco per capire come mai si resta in perenne emergenza. Messina produce il 10% in più al giorno delle tonnellate che possono finire al sito catanese mentre la raccolta differenziata spinta tra primo e sesto quartiere deve ancora partire.